Benvenuti a Molino 11 questo bellissimo showroom di sedie e poltroncine ergonomiche a Milano dove presento questa piccola mostra sulle città del futuro è una selezione di un mio progetto molto più ampio in cui ho girato nelle città più più grandi più in rapida trasformazione nel mondo per cercare di catturare i segni e i simboli di quelle che potranno essere le città fra 50 100 anni ho girato come vedete qui alle mie spalle per esempio Dubai queste sono due immagini Dubai quello alla mia sinistra è il grattacielo più alto del mondo e questo è una visione di una fermata della metropolitana in cui cerco di rappresentare questa atmosfera del futuro in questo caso una città molto verticale con poca gente che si vede nelle strade oltre a Dubai ho visto tante altre città sono stato a Shanghai a Mexico City a Singapore a New York a Vancouver che pur essendo una piccola città è una delle città più vivibili del mondo ecco una scena di Dubai presa dall'alto di un grattacielo e qua abbiamo invece Tokyo famoso incrocio di Shibuya dove contemporaneamente si riversano in questa grande piazza migliaia di persone e qua siamo a Shanghai nel centro finanziario al tramonto con questi giganteschi grattacieli scuri che vanno verso il cielo qua siamo a Mexico City una visione del panorama della città da un grattacielo importante del centro che si chiama torre latino anche qua è una foto fatta muovendo la telecamera per dare l'impressione dello spazio infinito che si chiama torre latino